Questo FOP deriva un po' dal dialetto FOP, che è una buca. La buca si è generata poi dall'escavazione dell'argilla. La zona si chiama Fornacetta, testimonia anche un'attività di utilizzo dell'argilla per il conto. In quest'area abbiamo determinato la presenza di circa 84 specie. Entrare in un ambiente dove c'è la presenza di altri animali è come essere una sorta di intruso, è come entrare un po' in casa loro. Un'area che sicuramente offre una notevole diversità dal punto di vista erpetologico. Noi abbiamo fatto anche queste ricerche per far conoscere i valori che ci sono sul territorio. Grazie. 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 Grazie.